tu cosa 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 mi mangi oddio che è successo mi raccogli qualcosa fammi capire no cos'è che mi mangi tu aspettate che c'è ancora lui si e cos'è che mando gli diamo la patata patata vai con la patata diamo anche un per cento to fai in fretta please bravo belle livelluzzo 116 non è male vicini vicini bravi così che vi voglio ora scopriamo un po il danno che fa tastino sinistro esci fuori talpa talpa non ha la retromarcia ma che sfiga talpa che mi è sparita talpa ok vediamo anche lei si blocca quando colpisce si blocca solo 17 pochino mangia carne ok vediamo col lancia fiamme qua che facciamo perché davvero pazzesco guardate che distanza però si ferma non possiamo colpire mentre corriamo la madonna fantastico guardate che storia non è tanto potente normalmente colpiamo a vista guardate che roba serpente a che distanza abbiamo beccato a mio dio però non lo so dobbiamo andare proviamo andare nelle zone dove c'è il boschetto verde magari dice c'è la meteora perché mi dispiace sta cosa la meteora era molto molto potente allora proviamo dargli un punto siamo a un milione un milione sessanta uno due tre si un milione sessanta con un punticino a mappa te quanti guarda che storia uno non ho gli elper non ho non ho per dargli la salute che sfiga vai con questo diamo un po adesso quanto facciamo di danno vediamo 18 diamogli una pozione medium alziamo gli ancora questo diamo un pochettino carchino facci vedere un po quanto danno subisci così aspetta che odio nell'acqua questa non spara nell'acqua in effetti quella volta che l'abbiamo ucciso un po di tempo fa non mi uccideva proprio perché lei era nell'acqua sì bene il danno è aumentato decisamente figlioli guardate che roba guardate a che distanza che fa danno fantastico ok figlioli ho alzato tutto in danno gli ho dato altre due pozioni adesso siamo non so a che numero perché non si legge ma gli ho dato veramente tanti punti e stavo pensando guardate che carino c'è sto attacco qua è pazzesco pensate quando ce l'abbiamo sulla spalla mentre siamo cavallo di un altro animale se ci dovesse aiutare mentre combattiamo sarebbe una cosa pazzesca guarda come zompetta guarda come zompetta la mia capretta fatti vedere in tutto il tuo splendore boing 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 ammazza come veloce o però allora siamo qua dai nostri classici spinosauri perché guardate guardate sciottati tu non sei morto che strano però temo temo che 30.000 sia davvero poco tenendo conto che i primal hanno veramente un botto di vita peggio ancora gli origini primal non so se riusciamo a farceli fuori con questa sarco salve che fare che fa si stava già girando ma mi faccia girare il piacere va allora qui c'è stata l'estinzione degli spino non so cosa sia successo ma non ci sono più spino vabbè che io avrò contribuito in larga scala però allora guardate da questa parte non ci sono più spino invece di quasi vediamo un pochettino se non ci sono origini nei dintorni questo celeste ce lo possiamo fare che livello è che palle chi è mi lasciassero un secondo in pace allo livello 68 io direi brusiamocelo bruciamocelo gli facciamo tanto danno secondo me ma tanto wow perché i celesti alpatiscono il danno da fuoco quindi continuiamo a fargli danno vai mentre primal e origin purtroppo no allora io quasi quasi gli do una di questa qua così perlomeno gli facciamo salire la vita guardato come sai velocemente con quell'affare lì stragi stragi tu laggiù ti becco la vediamo se nell'acqua no non posso sparare no sono totalmente come direi totalmente indifeso nell'acqua che peccato tu mori un altro animale che patisce l'acqua no non va mica bene allora laggiù c'è un primal che ne dite ci proviamo poi al massimo scappiamo aspettate che gli metto una pozione va non si sa mai me la tengo lì vicino così ok muori muori allora livello 72 no chi è che 72 toglietevi mannaccia lo spino livello 72 porca miseria molto porca mi stavo dimenticando del rato demonic oddio c'è troppa roba qua mi scusi lei può venire qua che se io nell'acqua non posso sparare chi è che sto colpendo scusatemi eh i pesciolini posso sparare di qua no ma dai no figlioli cambulgo il decisamente meglio non posso neanche sparare col fucile voglio la meteora fammi vedere se sgancio la meteora sì eccola 250.000 oddio la aia aia davvero mi sta attaccando meteora scende vai 250 beh si ragiona conducivo dio oddio guardate quante non ci capisco niente non ci sto capendo no ok no no ai funghetti Eh, ti pareva che arrivavano i funghetti, no? Rompermi una minchia. Ah. Cioè, guardate quante cavolo di meteore spariamo. Merda. Dammi, dammi sta roba qui. Ridammi la mia salute, please. Dov'è? Dov'è andato? Guarda che mi mangi questi, no? Per caso. No, tu non mangi niente, vabbè. No. Dave, sei stupido. Stimolante, stimolante. Eccolo qua, altrimenti mi addormento. Ma andiamo. Ok, dove è andato? Dov'è? Oddio, guardate lì. Guardate le stragi che andremmo a fare. Ma posso direzionarla, sta a fare? O cade solo su di me? È lui quello ferito? No, dove è scappato l'altro? Oddio, che carino il Fable. 16, bellissimo. Famo strage qua, così. Op, salve, guardate in alto. Spam! No, 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 nell'acqua no, eh. Vai, guarda come Zompetta è tutta contenta, perché è bastarda. È una capretta bastarda. È tutta contenta che gli tira le meteore. Sì, così, capretta. Fai gli sentire la meteora. Yuhu! No, fantastica, sì. No, cos'è che abbiamo ucciso? Tu mi muori, grazie. Muorimi. Vai, così. Giù, meteoro. No, ma figlioli, è devastante. È devastante. Dove scappi? E' qua. Peccato che non possiamo direzionarla. Solo su di noi cade. Guardala. Stai fermo. Quindi è difficile riuscire a colpire quelli che scappano. Stai fermo. Ma porca. Allora, guarda, guarda. Ok, è ritornato. È ritornato coraggioso. Di nuovo sti funghetti. Occhio. Così. Occhio ai funghetti. Dov'è? Oddio il fumo. Guarda, vieni qua. Ti brucio. Ti arrostisco anche. Dai con le meteore. Vai giù con le... Sììì. No, figlioli, è fantastica. 250.000. Oh my god. Quello è quello di prima? Sì, guardate dove è scappato. Brutto figliacco. Sì, fantastico. Vai, ancora danno. E la vita praticamente ne ha persa pochissima. Grazie all'armatura. Salve. Facciamo così, va. Facciamo che io do una meteora in testa. Così. Sembra quasi la pubblicità del buon dì, figlioli. Ce l'avete presente? Sì. Basta. Basta con le meteore. Mangiamocelo. Nice. Oh mio Dio, le soddisfazioni. Guarda, guarda, se ne va via tutta lei. No, perché poi è bastarda sta cosa. Quando tira la meteora lei zompetta allegra. Felice. Così, guarda come è carina. Sì, adesso ti faccio il culo. Fantastica. Mangiamocelo. Visto che il video già dura da un'ora. Oh. Ok. Il video dura da un'ora, figlioli. Io direi, vediamo se riusciamo a tamarci anche il rattone. Altrimenti me lo faccio da solo. Te ti arrostisco così a fiamma. Sì. Oh mio Dio, l'avessimo tamata subito. Avrà danno da caduta, figlio. Di solito tutti i celestial, eh sì, tutti i demonic, non hanno danno da caduta. Però vediamo un pochettino questo qui. Tu non prendi fuoco, scusami. Ah, ok. Sì, l'hai preso. Bravo. Oh, questo qua è alto, figlioli, eh. Scappa, ma è alto. Vediamo un po' quanti punti ha. Cento. Ce lo saremmo potuti tamare. Ma posso sparare le fiamme anche sott'acqua? Fatemi vedere. No. Ah, no, no, no. Questo proprio non fa nulla sott'acqua, è vero. Vediamo se posso sganciare le meteore. No, niente. Siamo totalmente inermi nell'acqua. BAM! Oddio! La strage. La strage, figlioli. Sì, con le meteore. Vai giù di meteore. Beh, ti faccio finire un mal di testa così. Guardate come scappa già. Guardate come scappa. Guardate lei come gondole felice. Basta, basta, l'hai ucciso. Basta, fermati. Fermati. Guardate lì il suo corpicino. Gnam. Allora, nel frattempo qua ci hanno droppato veramente il mondo. Guardate quanta cavolo di roba che ci danno. Adesso vediamo se ha danno da caduta. Sono proprio curioso a vedere se ha il danno da caduta. Sperando che non mi muoia, se no mi posso anche, sapete che cosa. Banzai! Oddio. Oddio. Cioè, beh, andiamo qua. Vediamo se ha il danno. No, non c'ha danno. Ok, come tutti i demoni, giustamente. Niente danno. Oh, quello è nostro. Quello è nostro, figlioli. 173. Buonissimo. Vieni con noi. Vai, vediamo liscio così il danno che fa. L'altro ci faceva 20.000 a livellato. 100.000! No, è una bestia, figlioli. Guardate, è una bestia. È ancora tutto da livellare. Allora, mettiamoci sulle spalle così magari ci aiuta pure. Vai, vai col danno da mischia. Allora, dove sta? Eccolo qua. Così. Vieni sulla mia spalluccia. Sono sicuro che mi aiuterai. Proviamo, vediamo se ci aiuta. Gli dico, dice qualcuno. Gli dico di attaccare lui. Non lo so se l'ha accettato il comando. Vediamo. No. Sì. Ha fatto 7.000. Ma allora ho visto male. Prima non era 100.000. Boh, non lo so. Già che ci siamo. Va, facciamo così. Dai. Ah no, qua non posso sparare. Che dispiacere, figlioli. No, che dispiacere. Allora, lasciamolo qua insieme all'altro anch'io. Vediamo un pochettino che livello è. Cioè, guardate. No, stai fermo. Questo è maschio. È sfiga. Ah, sono femmine. Wow, facciamo i cuccioli. Sì. Nei prossimi episodi, figlioli, vedremo i super cuccioli di queste bestie qua. Allora, io direi, ce ne saliamo sopra? Sì. Ah, no, no, no. Retromarcia non ce l'ha. Ma pochettino che sfiga. Io direi che ci possiamo prendere tipo lui. Ah, che cacchio. Non ce la retromarcia è una cosa impressionante. È scomodissimo. Possiamo prenderci lui. Il miele ce l'abbiamo. Fatemi vedere. Sì, ok. Ne abbiamo ancora 14. Chissà quanti ne spregheremo. Meglio prenderne ancora un po'. Ah, ma dobbiamo poi anche recuperare la Reaper Queen. Noi ce la dimentichiamo. Vabbè che non patisce. Allora, vediamo un po' di trovare... Non vedo più il bagliore. No, non mi direi che è despaunato. In teoria non despaunano, in teoria. Però non vedo più quella luce lì. Eccolo, 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 eccolo. Vediamo un pochettino che livello è. Speriamo che sia altino, va. Perché l'altro era un po' bassuccio. Cos'era un livello 30, se non ricordo... 30 massimo 36, se non ricordo male. Guarda come si è incastrato. E dai, dimmi livello. Io mi dimentico sempre di prendere la luce. Ma guardalo. Aiuto, aiuto. Aiutami, aiutami. Ma por... Oddio quanto è grosso questo. Che è? Allora, il ratto talpone lì è glitchato malissimo. Guarda che storia. Non riuscirò mai a muovere. Però va sottoterra anche lì. Che fa... Oddio, è super glitchato. È andato sottoterra, però. Il livello non riesco a vederlo. No. Ecco, è un livello 12. È bassino, cavolo. E basta. Allora, vediamo un pochettino. Vai. Aspetta, aspetta. Cos'è? Colore viola. Che carino. Allora, appena va sotto proviamo a buttargli un pezzo così. Ma non credo che funzionerà. Guardate che strano. Così. Vai. Vediamo se se lo mangia. No, guardate, guardate. Allora, dai, dobbiamo provare a spostarlo. Magari se lo colpisco di... Oddio, la zampetta. C'è la zampetta spaccata all'insù, figliuoli. Povero. Allora, proviamo a sparargli con questo. Che in teoria dovremmo fargli pochissimo danno. Vediamo, vediamo, vediamo. Sì, 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 è liberato. Bene. Scappa, 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 scappa. Andiamo verso l'acqua. Ah! Oddio! Ah, che questo mi muore subito. No, vabbè. Va bene. Vieni, dove vai? No, essere sinceri, l'acqua è dall'altra parte. Dai, viene, 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 viene. Scappa, 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 scappa. Sì, bravissimo, rattino mio. Come ti voglio bene. No, non ti fermare adesso. Adesso speriamo solo di non torporizzarlo, perché se no... Vai, diamogli un altro. Colpetto? Sì, ok, vieni. Rattino, rattino, bravino. Vieni qua. Dove sono ste spore? Ma che palle. Oddio, mi ha dato fuoco. Mannaccia. Vediamo, vediamo, vediamo. Seguimi, seguimi, rattino, seguimi. Dove stai? No, no, guarda dove si è incastrato. Allora, spacchiamo tutte le pietre. Apriamogli la stradina, dai. No, 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 no. Scusa, non ti volevo colpire. Non era una cosa voluta. Aspetta. Dai, vieni, vieni, vieni che ci siamo. Uh, oh my god. Vieni, ci sei? Ci sei? Sì, c'è, c'è, c'è. Sto giro resta nell'acqua. Sto giro resta nell'acqua. Ottimo. Oh, la mia vita. Oh, la mia vita. Mamma magna. Ok. Ok, la cosa figa di questi animali è che possiamo andare anche... Oddio, che fa? No, vuole ancora uccidermi. Ma no, ma dai, facciamo la pace. Guarda davanti, brutte bestie. Oddio, guardateli. Vai, è andata sotto. Corri, Dave, corri. No, non ci sono riuscito. Guarda questi come zompetta. No, non ci credo. Sono troppo comici. Allora, Rattino, dai. Rattino, stai nell'acqua. No, non ci credo. L'ho ferito camminando. Scusa. Vai, vediamo. Lanciaglielo. No, l'ho di nuovo colpito. Scusami. Scusami. Dai, allora, se rimane bloccato così mi va sotto. Forse, forse. Ci riusciamo. Non ti devi muovere. Oddio, siamo sotto la cascata. Guardate che figo. Vai, magnatelo. Un po' troppo distante. Ma che carino dietro la cascata. Ma che figata. Dai, vai sotto lì che è perfetto. Però c'è poca acqua, secondo me. Vediamo. L'ho lanciato, sì. Niente. Sì, è nostro. Ce l'ho fatta, figliuoli. Ce l'ho fatta. Vi faccio vedere il miele che mi è rimasto. Non ricordo quant'era in totale. 100 e passa. Me ne è rimasto 68. Quindi immaginatevi da quanto tempo sono qua che provo. Circa un'oretta. Ma va bene. Va bene. Vediamo un po' che livello è diventato. 18. Vabbè, ha preso 3-4 livelluzzi. Pazienza. Vai, mangiamelo. Sgranocchialo tutto. Di 11.000. Che tristezza. Va bene. Dai, ritorniamoci nella base. No, si è incastrato. Si incastra dappertutto questo. Vai, magnate il carchino. Vai, sgranocchia un po' quei dentucci. No, cos'è che non ti è chiaro? Scusami, eh. Ah, ok. Bravo. Andava a rallenti. Mangiati i tuoi cugini. Vai. Così. Ma perché va così piano? No, si è buggato. Guardate. Va a rallenti. Lascia stare, va. Vieni qua. Vieni, vieni. Ok. No, guardate che carino. Con il ratto sotto. Oh, è bellissimo. È bellissimo. Fantastico. Fa meno luce però così, eh. Rimpicciolito, diminuisce la sua luminosità. Guardate che carino. Ok, noi lo sganciamo qua, così abbiamo illuminato anche questa parte qui. Sì, figlioli, lo utilizzeremo come una lampada. Niente di più. Ah, guardate che figata. Ora sì che la base è tutta bella illuminata. Caprettina. Anche lo saurino mio. Bene, figlioli. Oggi è stato un episodione. Dov'è Capretta? Capretta, ando stai? Ah, ce l'ho di sopra. Va bene, va bene. Eccola qua. Mettiamo a posto il nostro Pegaso. Ok. E ci riprendiamo la nostra Capretta che non fa la retromarcia. Mannaccia lei. Guarda il cavallo invece come va in retromarcia. Va in retromarcia che è una meraviglia. Allora. Sali su. Ok. Mazza quanto è veloce. È velocissima. Ci mettiamo qui. Sì. No, no, no. Ma porca miseria. Mi ha seguito. Bene, figlioli. Siamo giunti alla fine. È tardissimo. Sono le due e mezzo di notte. Io devo andare a dormire. Spero che l'episodio comunque vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando. Lasciate un bel like. Condividete con i vostri amici. Se non siete iscritti. Iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo prestissimo. In un altro episodio. Oh. Sono petta felice. Yeee. Grazie.